Silvia Pagni domani sarà in Vaticano, perché? Perché io qualche mese fa ho avuto alle ore 20 di sera una chiamata con numero privato dalla diocesi. Io lì per lì ho detto ma diocesi, non avevo afferrato proprio che cosa voleva dire questa diocesi. Dopo un po' sento una voce molto pacata dicendo buonasera maestro. Ho detto buonasera con chi parlo e questa persona così dolce mi chiamano Papa Francesco. Io lì sinceramente mi sono sentita un po' anche un po' presa in giro perché ho detto ma non può essere, non sono proprio io, io l'ho chiamata perché ho saputo che lei è una brava fisarmonicista e le vorrei commissionare un tango argentino. Io mi sono sentita sinceramente anche adesso che ne parlo molto emozionata. Questa cosa poi è stata riferita a Teddi Reno dove abbiamo creato questo brano per Papa Francesco. E il titolo, se qual è? Uno come noi. Perché il Papa Francesco veramente è una persona come noi. Lei questo brano lo suonerà il 17 di dicembre mi sembra? Allora, il 17 dicembre ci sarà questa grande festa per il suo compleanno che è stata organizzata da una mia amica marchigiana però si parla del ballo della milonga mentre invece noi domani avremo proprio una giornata esclusiva per noi, per me Teddi Reno e Lisa Ricitelli per presentare e dare proprio al Papa, al nostro Papa, questo tango che si chiama Uno come noi. Che soddisfazione c'è? Io sono emozionata, tantissimo, perché ricevere una telefonata da un personaggio così forte è una cosa penso unica. Lei ha qui la fisarmonica, ci fa sentire un pezzettino in esclusiva? Guarda, io posso dire una cosa, io tante volte per scaramanzia nemmeno ne parlo. Due note soltanto. Ti prego, ti posso garantire solamente una cosa, che appena darò in mano al Papa questo brano, che fino ad oggi l'abbiamo sentito solamente io, Teddi René e Lisa, sarà il primo ad avere proprio la copia originale.